Dal 19 ottobre al 3 dicembre il Polo del Novecento di Torino ospiterà la mostra fotografica Opposti non complementari, bambini nei concorsi di bellezza statunitensi e nei campi profughi libanesi. L'evento, promosso dal Museo Diffuso della Resistenza e dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, si avvale del contributo della Regione Piemonte e del patrocinio dell'Unicef Italia. La mostra, prodotta dal Museo Diffuso del Comune di Torrepellice, curata da Andrea Balzola, è basata sui reportage realizzati dai fotografi Barbara Baiocchi e Jean-Claude Schinqueret. Una mostra che parla di infanzia vista da due angolature diverse, opposte ma non complementari. Esatto, questa è una mostra che dopo Torrepellice portiamo qui, si parla di due infanzie negate, da una parte i rifugiati siriani in Libano con i miscatti, dall'altra parte quelli di Barbara Baiocchi, di un'infanzia comunque negata, quella di bambini nei concorsi di bellezza. Quando parliamo di infanzia negata inevitabilmente la mente corre ad Auschwitz, il milione di bambini uccisi nel momento più terribile della storia dell'umanità e che è un'infanzia negata allora che continua ad essere negata, se pensiamo ai bambini siriani, ci sono molte foto che riprendono bambini di Shabra e Shatila, il campo palestinese in cui furono uccisi decine di civili e tra questi molti bambini. Contemporaneamente pensiamo che sia negata anche l'infanzia di bambini che partecipano a mostre di bellezza negli Stati Uniti, 25 mila l'anno circa, migliaia di bambini che vi partecipano, insomma bisognerebbe proprio lasciare che i bambini facciano i bambini e abbiano la possibilità di crescere.